bella ragazzi siamo tornati qui sul canale con un nuovo video stavolta siamo su un gioco diverso dal solito siamo su blacklight retribution lo scaricato da steam per chi lo volesse scaricare glielo lascio in descrizione comunque siamo stavolta su questo nuovo FPS perchè per quale motivo? innanzitutto ho fatto qualche partita infatti sto a livello 2 gran pro, attenzione e lo userò per parlare un po' degli FPS in generale dei free to play ecc comunque cercavi di tenere le aggiornate ora mentre cerchiamo una partita magari volevo parlare innanzitutto della differenza con prendiamo quello più comune COD ad esempio Hello Tech mai giocato volevo parlarvi perchè perchè a me il gioco piace come grafica come meccanica come è fatto proprio il videogioco oh l'ho eliminato però devo dire che comunque essendo questo un gioco gratis per me non sono un PC gamer quindi di solito non gioco su PC però lo preferisco a COD in quanto è più serio cioè dovete sapere che su PC logicamente a differenza delle console non si trovano tutti quei giocatori chiamiamoli particolari che ti fanno arrabbiare ma invece trovi gente da dietro che ti spara e non sai nemmeno perchè e vabbè insomma non trovi tutta quella gente che comunque porta a far odiare un videogioco che di per sé è bello perchè comunque io stesso ricompro il gioco ma mi diverto comunque alla fine invece qua oggi entriamo a parlare di Black White che assolutamente non è innovativo in quanto avendo solo un multiplayer deathmatch a squadre modalità come uccisione confermata dominio eccetera comunque sono modalità viste riviste le mappe sono più o meno grandi cioè ma gli ho fatto grandi effetti dinamici non ce ne sono quindi non come il battlefield non so come si accoltella ah 4 tiri fuori il coltello boh mai pare però andiamo a parlare un attimo cioè secondo me essendo questo un gioco da scaricare gratuito va più che bene oddio quanti cazzo so va più che bene e meccanica di gioco innanzitutto a parte che è in inglese quindi più o più quello che ho capito fino a mo le armi costano un bordello e come sul combat arms quando le compri si durano un tot periodo se ne vai un po' sette giorni quindi una settimana in base poi a quanto spendi per acquistarle che cazzo è successo in un pezzo vabbè tanto faccio un'altra partita però c'è lo stile dei personaggi la personalizzazione sono tutti fattori che comunque portano a a far piacere un gioco cioè come dire in questo senso il fatto di poter modificare sotto molti aspetti il proprio personaggio customizzare l'arma e altre cose cioè a me sinceramente è piaciuto molto ora ci sto giocando da poco da un giorno appena anche perchè 6 gigabyte di roba e comunque è è difficile all'inizio killare perchè le armi che ti danno a disposizione non sono delle migliori madonna c'è un ping obbrobrioso chissà perché vabbè e un attimo voglio aggiornarvi pure un po' sul canale allora stiamo procedendo bene ci avviciniamo ai 100 iscritti come al solito però ultimamente carico pochi video perchè sono impegnato impegnato a far cosa voi direte a fare a non fare niente ma cazzo si inizia la partita ah ecco ok dai adesso che ripartiamo col gioco ripartiamo anche con il gameplay allora dovrebbe essere in deathmatch stavolta ok venghi in game eeeh ho capito non so se ci sono le serie di uccisioni spero di no rendono il gioco inutilizzabile ah che l'arte assurdo chino che l'altro fai a tutti oltre dato che aspetto la fine di titanfall ooo ooo l'ho eliminato l'ho eliminato scusate come ne quando dato che aspetto l'uscita di titanfall solo la farebbe il mio inizio farò un video ogni ora perchè io da quello che ho potuto vedere dai trader adoro quel gioco so 2 di fila attenzione adoro quel gioco che anche quello invece dal punto di vista come video gioco proprio è molto più innovativo a parte che sarà per next gen ed esclusiva microsoft quindi io lo prenderò sicuramente per il computer non avendo gli spot one anziché azionato a farmi la playstation 4 poi vedo la serie aspettando Ghosts e vi farò un episodio nel prossimo video cioè il prossimo video uscirà perchè volevo aggiornarvi un attimo sono successe molte cose non vi spoilerò altro ma vi faccio vedere la prossima volta adesso che cazzo camminati morivi che figo sono una cosa che non mi è facciuta è che non c'è la mini mappa io giro a caso giro laggando e giro a caso oh e poi giri e spuntano dai muri e gente si che questo effetto slow motion ti fanno vedere quando muori anche se è inutile perchè pare quasi ti sia laggando perchè vedi quel nemico che afferma invece no poi si muove poi poi granata ah comunque secondo me lo reputo un gioco adatto come un per essere un competitive secondo me è molto azzeccato da questo punto di vista ho visto uno l'ho visto uno ma lui l'ho visto l'ho visto l'ho visto 2 2 per ora 2 2 per ora ah e poi la cosa bella è che vedete in basso a sinistra quei punti 775 ci sono delle stazioni in cui è possibile spenderli per ottenere salute, munizioni e altra roba non aspettavo cioè pure altre armi tipo aspettiamoci per poter trovare bene una eccola trovare aspettate ok andiamo 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 ok ci sta ammo, frame drawer, arm of stinger, hard suite ok devo arrivare a 1300 ok appena arrivo a 1300 lo prendo nel frattempo sono proprio io sono proprio io che cavolo vabbè con che arma non sa nemmeno lui ooooh un nato a bestia proprio io ho premuto te ho premuto te mi dimentico te mi dimentico te 625 cp devo favo a capa vai scelgo te cazzo ma prima non c'era tutta sta bucce ma prima non c'era tutta sta bucce però qualche fottuto nemico vedete dove c'è stata una mappa b un po' più piccoli più più uff 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 shotato dalla dalla lunga distanza proprio presco di spec player uii ah e v8 classe questa cosa natale comocco tornando al discorso e il gioco io lo consiglio a tutti di scaricarlo e per quanto riguarda invece costo si aspetterò che sia che loro che loro usato scontato 30 euro ce li potrei pure spendere per old gen nintendo per il resto poi non so olè ah ecco i punti si guadagnano in base alle chi ok c'è uno 1100 da arrivare a 1300 e ottengola tutti la tutina quella attillata ma che altro no olè ho ottenuta tutina attillata no non lo so che cazzo ogni volta però bisogna attendere sti secondi di respawn non va bene non va bene veglia 1350 volete andiamo a fare porno star con le tutine serve però un punto in cui prendi solo non mi ricordo dove era quella di prima qua sotto la vedete si eccola perfetto ecco art street ecco cosa che cos'è sta cosa cos'è quel coso pareva tipo materializzatori di qualcosa di cerrioli perché quasi stavano pure i personaggi femmine quindi c'è pure il cerriolo 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 quindi mo l'ho persa cioè ma fatemi capire che cazzatezza questa mangia la mio sperma di polvere da sparta oh l'ho preso esultare per una chilo con una granata troppo da questo gioco boh ah mi si aperta la testa in due madonna ma che c'è roba allora dove siete eh vabbè vero che cazzo stavo questa è la donna bella obbietta dalla lunga distanza non c'è più perché c'è un rinculo assurdo star ma porca roia star ma sparano a parte come tu azzia u ma non c'è posto lì eccolo l'ho visto bello implodi lurido cosa anzi no esplodo swap oh che cazzo di arma riga pure il mirino laser pure il mirino laser via poca 8 cazzo c'è il costoilles e cosa che la cosa su più livelli c'è il barco a casa di qualcuno cosi signora posso non vorrei dirle nulla ma le storie Capisco mai perchè non mira Non viene più immediato agire così Perfetto Stiamo pure perdendo Ciò di guamolo Non di tantissimo Cerchiamo di risolvere questa partita ragazzi Se siete con me mettete un like Anche perchè ho molti iscritti Inattivi perchè Che sto pensando a farli aumentare Perchè essere attivi Poi quanteremo di più Oh 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 Ma che cazzo è un canguro che si terrasporta? Sì perfetto Ti spari nelle costole lui nel frattempo ti uccide Che cazzo è il pupazzo Godzilla blu la vendetta Eccolo Godzilla Eccolo Godzilla Eccolo Godzilla Sare morto Io ci ho fatto il mezzo come un cretino Voglio sapere quanto storico Eccolo Ho la finestra e mi copre Cantasi Sì io so Cantasi Vedo qualche problema Oh 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 Che è quel simbolo? Ho brutti i dosti Oh è finita la partita Ragazzi spero che per questo video Di avervi orrea intrattenuto Vi avervi fatto conoscere il nuovo gioco E ci vediamo al prossimo video L'admin ha mandato un messaggio Verrò stuprato Sicuramente Ma sicuramente sì Comunque vi lascerò tutto in descrizione Mi raccomando Leggetela Ciao a tutti Alla prossima